Ciao, Tommaso. Sono Anna. Ciao, Anna. Come stai? Sto bene, grazie. Sei libero sabato? Sì, io sono libero. Cosa vuoi fare? Non ho vestiti estivi. Vuoi venire insieme a me? Va bene, neanche io ho vestiti estivi. Andiamo insieme. Sabato, davanti al centro commerciale. Alle quattordici. Cosa ne pensi? Beh, ci vediamo sabato allora. A sabato.